ciao amici fallo e oggi giocheremo a papà lui ci chiamo a papà lui ciao sasha anche il mio canale si chiama sasha mimos vuole il formaggino, i pomodori non è ancora venuto quel chizio da aiuto facciamo le patine fritte ori eccolo ciao amios ho mai parlato intero in italiano nei video perché si aiuto aspetta roi vuole il formaggio giallo ma si che paninozzo patatine fritte vabbè iniziamo a fargli il paninozzo non lo so ma vuole quasi tutto nel panino non lo so che salsa è questa ma più a chiamarlo ranch si sa sempre che fa ridere io amo questo gioco ma sto poi mi chiedo se si sbriga a cucinarsi oh ecco allora sasha che ne pensi yeee che bello sto contenta non lo so mi chiedo se deve sbriga a cucinarsi oh ecco ci siamo non lo so 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 oh tizio che ne pensi si si ma potete anche tipo ignorare sottofondo e fare caso alla mia voce per favore chi se ne frega vabbè ah no non voglio fare i tuoi giochi vabbè andiamo nel shop devo shoppare tutto aspetta non vi preoccupate che ho i soldi un po' infiniti che io sono ricchissima compriamo le legume compriamo i sud iom Rieccoci ciao Doan mi sei mancato si chi se ne frega del cichennie amio zzzzzzzzzz Doan io ho decorato guarda uno si sta registrando io e Don voglio accontentarmi posso accontentarlo in un solo secondo no non posso accontentare ho scoperto che non posso accontentare le persone in un solo secondo Mettiamo Oh ma sbrigate patatine Boh Sbrigate che questa cosa mi fregherà ancora e di più Beh Che c'ho il cliente in arrivo e c'è stato di segua bruttissimo scherzo Ma Vabbè Vuole questo Il pannino sottile con il cichennie Ma che cichennie Anche lei vuole le stesse patatozze come sta Oh Penso che sono andate via Abu Faccio Doan vuole il ranch Ma perchè questa salsa si chiama ranch Ironica Doan Per favore sbrigati Che Si Doan Ma mi ho mancato troppo costruzzi No No Sto panino sottile Aspettate Ciao Buonasera Buongiorno Non lo so Quindi A che punto sono le patatine di quella tizia Oh Sono purtroppo conti No Ma perchè il formale non sono più perfetto Non sono Non sono precisa per Oh Sono pronte Sono pronte Sono pronte State State tranquilli Che sono pronte Anzi prontissime Nono Va bu Ma io che Ma io che punto sono Scusa Vabbè Ciao plump Vai via dal mio negozio E dimagrisci Ok Ok vuole il formaggio giallo Che scherzo Ragazzi Ma perchè mi prendete tutti sul serio Però Il mio Io mi era triste quando mi prendono le mie scherzo sul serio Siete cattivi Siete Sì Il formaggio Per favore Sbrigati Per favore Per morire Per morire Per morire Per favore Dammi Dammi Vabbè ciao alla prossima Per favore